Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite per parlare di alcune cose molto molto interessanti Ma prima di iniziare a parlare di queste cose molto interessanti volevo semplicemente avvisarvi che quest'oggi finiscono le sfide di Natale Nel senso, escono praticamente le ultime sfide con cui poter sbloccare tutti i nuovi oggetti gratuiti appunto natalizi E si potrà finalmente sbloccare quest'altra nuova skin, come sapete quest'anno erano due le skin in regalo per il Natale Abbiamo già potuto sbloccare Commando, questo pupazzo di neve che tra l'altro ci sta dando le sfide E da oggi sarà disponibile anche l'ultima sfida per poter sbloccare quest'altra nuova skin Bene, nel pomeriggio in serata quasi sicuramente andrò in live Quindi controllate di essere iscritti se non lo siete, iscrivetevi, attivate la campanellina perché sicuramente faremo una live mentre la sblocchiamo Detto questo vi ricordo ovviamente di supportarmi nel negozio oggetti di Fortnite con il mio codice creatore GGYT Tutto grande, tutto attaccato, grazie davvero di cuore per il supporto Mi raccomando controllate che in basso a destra ci sia scritto GGYT come supporto a un creatore perché ogni due settimane il codice scade E quindi se scade ogni due settimane dovete reinserirlo Comunque regà non vi faccio vedere lo shop perché era quello di ieri perché sto registrando ieri rispetto a quando voi vedrete questo video E proprio in onore delle calciatrici oggi facciamo i tryharder Regà ho messo proprio il piccone dei tryharder, ho messo la skin dei tryharder Ma tanto noi faremo schifo, mi raccomando lasciate un bel mi piace se volete supportare la serie delle GG News Che altrimenti ve ne sto portando pochi perché c'è poco hype ragazzi Cioè tutte le novità che escono, tutte le cose, le notizie hanno poco hype secondo me Ma quella di oggi è molto molto interessante Quindi guardate il video fino alla fine e aprite bene le orecchie Mamma mia ragazzi con questo setup dell'armadietto diciamo della skin mi sento un vero tryharder Peccato che non lo sono ma va bene Ok ragazzi lo ammetto oggi non è che abbiamo tantissime notizie Ma tutte le notizie hanno un certo rilievo ragazzi Sono tutte molto importanti Perdonatemi se ultimamente sto facendo davvero pochissimi video delle GG News Ribadisco però per supportarli lasciate un bel mi piace a questo video Però ultimamente vi dico la verità Tutte le notizie che stanno uscendo hanno veramente poco hype Cioè creano poco hype comunque per chi non sapesse cosa vuol dire hype Diciamo che creano poca attesa nel senso che in pochi le attendono queste nuove novità Infatti ragazzi sto reputando Questa stagione è una buona stagione a livello di giocabilità A parte le guardie e gli scagnozzi e questa roba qui che veramente la sto odiando Però gli NPC le armi che ci sono e tante altre cose come la mappa mi stanno piacendo Il problema regà è che non stanno creando attesa per nulla Cioè nel senso io almeno nella stagione precedente quando c'era vabbè la Marvel Ok ci mancherebbe che niente mi si è bloccato Benissimo mi si è bloccato Vabbè bello 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 ottimo Non ho laggato ragazzi non ho quasi 100 di ping Tutto a posto tutto bene ok si sta un attimino rimettendo normale Stavo dicendo ragazzi cioè ok il Mandaloriano Ok il pack di Pantera Nera e Capitan Marvel Però non lo so regà cioè non si sta creando quella giusta atmosfera di attesa per ogni cosa che deve uscire Speriamo di starci a sbagliare che per il 2021 stanno preparando delle cose pazzesche regà Ma soprattutto io spero che magari si siano presi una pausa per questo periodo natalizio Sarebbe anche giusto ragazzi per carità sarebbe anche giusto se lo meritano Comunque detto questo stavo dicendo questa settimana dovrebbe esserci l'aggiornamento regà Perché dovrebbero terminare le sfide di Pantera Nera Allora ragazzi perdonatemi ma ho detto una cavolata assurda Come potete leggere dall'immagine che vi ho fatto vedere e che vi sto facendo vedere anche adesso La patch non ci sarà questa settimana Non so che cosa mi ha detto il cervello l'avevo anche letto che era il 13 gennaio la prossima patch Evidentemente ci speravo non lo so regà però rip Quindi io adesso per almeno metà video dirò che la patch ci sarà questa settimana In realtà no cioè in questo video quando dico la patch è questa settimana intendo dire che è il 13 gennaio 2021 Ragà perdonatemi per questo errore ma Bob non so evidentemente io mentalmente ci speravo Ma niente scusate ancora ora vi auguro una buona visione E lo sapete ragazzi che Epic Games rilascia le patch sempre quando terminano delle sfide Come la stagione scorsa erano le sfide degli ignomi che decretavano i giorni delle sfide Quest'anno non essendo quest'anno anzi durante questa stagione non essendoci ancora gli ignomi Sono delle sfide magari a caso come questa volta li possono essere quelle di Pantera Nera appunto E quindi ragazzi io direi adesso di provare Mannaggia la miseria, mannaggia la miseria, mannaggia la miseria Eh non muore Tra l'altro questo qui c'è un'altra skin tra i jardini Insomma comunque ha fatto in tempo a mangiarsi il prelibba pesce Regà gli ho visto il prelibba pesce in mano E niente ha fatto in tempo a mangiarselo Ci ha messo tutta la velocità che era nel mio corpo per provare a non farglielo mangiare Ma niente Ovviamente ragazzi magari vi aggioro nei prossimi giorni per quanto riguarda questa patch che dovrebbe uscire Comunque dato che moltissimi me lo stavate chiedendo La situazione tra Apple ed Epic Games non sta migliorando Ribadisco lo ripeto sempre C'è gente Gente No C'è al pompa a carica raga dobbiamo stare molto attenti Stare molto 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 attenti Che fa Che fa Non ho capito Ciao 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 Eh non ho capito Tra l'altro un'altra calciatrice Niente regà tutti i try harder Tutti i piccoli try hardini Come sta Ah no ok perfetto Sono le lucciole Pensavo stessero sparando qui vicino a me ma erano le lucciole Va bene Stavo dicendo la situazione tra Epic Games ed Apple No regà non sta migliorando No comunque si stavano sparando regà Più verso destra Queste sono le guardie regà Le guardie hanno pushato qualcuno Vabbè comunque regà in poche parole E quello che vi volevo dire è che questa situazione tra Apple ed Epic Games Ha fatto perdere circa 300 milioni di dollari 300 milioni di dollari a Epic Games Quindi prende a colei che sviluppa Fortnite Regà 300 milioni di dollari So tanti Comunque da a quanto pare Epic Games sta ricominciando a mettere mano ai server di Apple Ai server da mobile Perché questa storia del GeForce NVIDIA Ok di NVIDIA GeForce Sta prendendo sempre più piede Quindi a quanto pare Stanno ricominciando a lavorarci E regà non ci ricominciano a lavorare così a caso Sta per succedere qualcosa evidentemente Quindi per tutti quelli che giocano da mobile Tra l'altro ragazzi vorrei far notare che le guardie hanno ucciso poi quello che hanno pushato Perché questo qui mi sembra proprio il loot di quello a cui stavano sparando Quindi ok Io continuo a dire che le guardie sono un attimino troppo forti Stavo dicendo in questo 2021 ci saranno poi verso maggio le prossime udienze I prossimi scontri in tribunale per quanto riguarda il punto di vista legale Però per adesso Epic Games sta cercando delle altre vie per sviare questo problema E comunque riprendersi un po' la fetta di utenza che c'era appunto su iOS E sarebbe fondamentale ragà perché 300 milioni di dollari non sono pochi Comunque una cosa che dovremmo vedere in futuro sono gli airdrop venduti dagli NPC Come sapete c'è questa nuova meccanica in game degli NPC con i lingotti d'oro Che possiamo sfruttare appunto per comprare cose Attualmente possiamo comprare armi, potenziare le armi Addirittura possiamo tra virgolette assoldare gli NPC e cose così insomma Bene a quanto pare prossimamente per 600 di oro potremmo far spawnare degli airdrop Ed è una cosa secondo me molto molto interessante Va bene ok Non ho capito perché lui stesse nuotando così nel nulla completamente a caso Ma apprezzo, apprezzo lo sforzo Tra l'altro aveva proprio quella skin per nuotare Insomma E niente pensavo fosse un doppio flopper ma l'altro è quello innevato La medusa direi che ce la facciamo immediatamente E ora io non so come quando apparirà tutto ciò Cioè quando gli NPC ci venderanno gli airdrop e quando ci sarà effettivamente questa patch Noi immaginiamo questa settimana Proprio per quello che vi stavo dicendo prima perché le sfide di Pantera Nera finiscono in settimana Vediamo un po' gli sviluppi Non si sa ovviamente se anche se ci dovesse essere la patch Se poi effettivamente uscirà questa cosa degli airdrop Però ovviamente io lo spero perché sembra una cosa molto interessante Allora ragazzi fortunatamente c'ho Serena qui accanto a me E io per tutto il video dirò che la patch ci sarà questa settimana In realtà no Cioè quando io dirò che la patch ci sarà questa settimana In realtà volevo intendere il 13 gennaio Ho letto male lo screen che mi ha dato Serena O meglio non è che ho letto male Avevo letto bene Ma poi mentre parlavo mi sono completamente confuso Perché mi aspettavo in realtà una patch questa settimana Quindi ragazzi miei Durante tutto il video io sbaglierò il giorno E dirò questa settimana ma in realtà sarà il 13 gennaio E' rip Dicevo dato che appunto sarà il 13 gennaio A questo punto ci possiamo aspettare sicuramente meglio Gli NPC che ci vendono gli airdrop Cioè effettivamente possiamo aspettarci degli aggiornamenti un po' più consistenti Come magari la modifica delle armi ragazzi Innanzitutto c'è uno lì che sta Fermo What? Mi sa che ha laggato regà Oh 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 Mi sa che ha laggato questo ragazzi Cosa? Doppi passi Chi stanno Eh però c'è qualcun altro sopra Eh sì che c'è qualcun altro sopra E quanta vita hai Vieni 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 fratma Ah no stai qua però Ok Madonna regà l'abbiamo asfaltato Mamma mia let's go regà Che abbiamo fatto? E' un po' la skin eh Secondo me è la skin ragazzi Secondo me è la skin Comunque a maggior ragione Dato che non sarà questa settimana Ma la patch sarà il 13 a questo punto Secondo me possiamo aspettarci di più Dei cambiamenti Come questi che abbiamo elencato fino adesso Ma soprattutto il più grande cambiamento di tutti Potrebbe essere sulle armi Perché sembrano che potrebbero essere poi modificabili Essendo una cosa detta da Ipex Che è uno dei pochi leaker Che diciamo anche senza leak Riesce ad avere delle notizie Pare da Epic Games Sono delle fonti interne Non si capisce sto qua Come fa ogni tanto ad uscirsene con delle cose Che poi effettivamente si rilevano vere Si rivelano vere Però sembra che ci sia appunto Questa nuova modifica per le armi Ma non si capisce se è una cosa Per magari creativa Dato che appunto nel 2021 Arriveranno le mod su Fortnite Perché non so se avete seguito Comunque gli ultimi video delle GG News Ma stavamo appunto parlando Del fatto che le mod saranno aggiunte Dal 2021 su Fortnite Regà non vedo l'ora Cioè non vedo veramente l'ora Perché con quelle penso che potremmo fare Dei contenuti davvero pazzeschi Ma comunque a parte le mod Non si capisce se possono essere effettivamente Delle cose per quanto riguarda le mod Quindi infatti noi potremmo creare delle armi Modificarle un po' come vogliamo Tramite le mod Oppure magari direttamente in game Creare delle nuove armi Magari mettere un mirino allo scar Aumentare la velocità del caricatore Cioè riuscire a ricaricare le armi più velocemente Avere una raffica di fuoco più alta Cioè si potranno fare queste modifiche Ma non si capisce se magari saranno gli NPC in mappa Che ci potranno far fare queste modifiche Per i lingotti d'oro Oppure se è una cosa che è soltanto Per la modalità creativa E quindi soltanto da un punto di vista Delle mod E di queste cose qui Non lo so ragazzi Lo vedremo Però appunto essendo che la patch sarà il 13 gennaio Tutto è possibile Perché praticamente mancano ancora più di due settimane E quindi è anche confermato che insomma Epic Games si è presa un po' una pausa Per Natale Ma ribadisco è giusto così E quindi magari potrebbero ricominciare A bomba Dal 2021 Con tante 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 belle novità Niente ragazzi sto andando verso di là Ma se la safe si chiude di qua È rip Ok raga ci possiamo fullare Forse nei funghetti Ne ho visti parecchi eh Ne ho visti parecchi Quindi credo che ci potremmo fullare con i funghetti Siamo ancora 11 in una safe relativamente piccola Raga perché Insomma 11 in una safe così Nelle pubbliche Non si vede spesso Tra l'altro non hanno ancora corretto il bug della sabbe Raga c'è una roba pazzesca Da quant'è che la sabbe è disabilitata Attenzione quella lì è la mia È la mia taglia eh Quindi direi di provare a pusharla Ok Uh No Oh mio dio Mi ha laserato con la mit Ero full Ragazzi ero full Mi ha laserato con la mitraglietta E io col pompa non l'ho preso neanche mezza volta Ma 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 What Cioè raga ero anche in volo con la mitraglietta e mi ha laserato Vabbè raga peccato Tanto le cose da dire le avevamo finite Vi chiedo scusa se mi sono impicciato con la patch di questa settimana Ma Ero completamente convinto Anche perché non esce una patch da una vita Quindi sinceramente ci speravo Però niente Se ne riparla dal 13 gennaio Mi raccomando Lasciate un bel mi piace per supportare le GG News Iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto Vi ricordo ovviamente di utilizzare il mio codice creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite Per supportarmi Per me è tutto Noi ci troviamo dopo in live Per completare le ultime sfide di Natale E sbloccare l'altra skin gratis Fatemi ovviamente sapere sotto nei commenti Cosa ne pensai di tutto quello di cui abbiamo parlato Per me è tutto Ci troviamo appunto dopo in live Ciao Ciao